Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Curiosando Lanzarote. Oggi una bella passeggiata a Playa Honda sul lungomare ma poi ci spostiamo in un posto a pochi passi dal lungomare che sicuramente vi piacerà un sacco. Soprattutto a noi donne. Non vi dico niente, seguite il video e mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate, lasciateci un like se vi piace e non perdetevi assolutamente il video di stasera alle 19.30 perché ci sarà una grandissima sorpresa per voi che siete iscritti sul nostro canale. Quindi ragazzi vi mandiamo un saluto e buon video a tutti. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.